GP d'Italia, ottavo round della stagione di Formula 1 per la Williams, Milano, il tempio della velocità per il team principal della Williams, Alas Adamson, è il gran premio di casa. Vedremo cosa saranno in grado di fare con le strategie, vedremo cosa saranno in grado di fare i nostri due piloti. Intro e poi partiamo! Eccoci nuovamente nella dashboard di Alas Adamson, evento 8, GP di casa per il team principal della Williams, GP di Milano, siamo nel tempio della velocità in Italia, dobbiamo solo cliccare su continua, scegliere il nostro sponsor a obiettivi, selezione delle gomme, abbiamo un consumo gomme basso, quindi gomme super morbide 10 set, direi 3 set di morbide, ne lasciamo 2 di media, anche se probabilmente possiamo tranquillamente dire 10, 4, 1, così saremo più tranquilli per la gara, un set di media solo se dovesse servire durante la gara, difficilmente lo utilizzeremo nelle prove libere, quindi 10, 4, 1, montatura dei componenti, dobbiamo se non sbaglio assegnare un motore, infatti il motore performance a Pascal Verlein e vediamo se abbiamo altri elementi più performanti, infatti abbiamo le sospensioni più performanti da assegnare a George Russell, detto questo clicchiamo su continua e possiamo proseguire alle nostre prove libere dell'ottavo round della stagione, GP di Milano, tempio della velocità in Italia. Ed eccoci al venerdì di prove libere qui in Italia per questo ottavo round della stagione di Formula 1, scegliamo George Russell e Pascal Verlein per le prove libere, setup della vettura, George Russell preferisce un assetto un po' più carico, però non lo carichiamo troppo sapendo che è una pista molto veloce, tendiamo più al sovrasterzo con Russell e vediamo cosa preferirà e poi preferisco allungare le marce, vediamo scelta a gomme, lasciamo le gomme super morbide per lui, vediamo se sarà lui a gestire lo stint di gara, la conoscenza per la gara, abbassiamo invece il carico aerodinamico per Pascal Verlein, con lui aumentiamo la rigidità delle sospensioni perché ho visto che comunque solitamente tende al sottosterzo e aumentiamo la velocità massima, scelta delle gomme, lasciamo naturalmente le gomme super morbide, continuiamo e andiamo per le prove libere, subito in pista con George Russell, stint di gara per lui, assetto da qualifica, andiamo a vedere Pascal Verlein, anche per lui assetto da qualifica e quindi direi di far scendere lui con l'assetto da qualifica e modificheremo solo lo stint per George Russell, subito in pista Pascal Verlein con George Russell, andiamo a modificare, assetto da gara, scelta gomme, le morbide e via. Noi ci rivediamo al termine delle prove libere per vedere come sarà andato il setup della vettura. Siamo un minuto dal termine della sessione, abbiamo fatto rientrare Russell, come potete vedere tre eccellente, 99%, il lavoro con George Russell è già terminato qui perché non possiamo ulteriormente migliorare questo setup diciamo che abbiamo raggiunto un valore quasi non migliorabile, sarebbe un grosso rischio tentare di migliorarlo, quindi lasceremo così. Sta rientrando anche Verlein in questo momento, con lui abbiamo leggermente peggiorato a quanto pare rispetto allo scorso, la percentuale è rimasta 97%, però prima avevamo due eccellenti, il bilanciamento della velocità è leggermente peggiorato, abbiamo cercato di aumentare però il carico aerodinamico, sembrerebbe quindi che nonostante sia leggermente peggiorato il bilanciamento della velocità sia migliorato il carico aerodinamico, quindi proveremo ora a riaumentare leggermente il bilanciamento della velocità sperando di raggiungere almeno un 98%. Giusto giusto per un ultimo giro, probabilmente non avremo i dati quindi qui durante le prove libere dovremmo dare un'occhiata al setup di Verlein durante le qualifiche e possiamo proseguire accelerando per vedere come sarà la graduatoria finale di questa prova libera. Eccoci con Charles Leclerc che è davanti a tutti dopo le libere italiane, quindi scuderia Ferrari davanti a tutti nel Gran Premio di casa, Max Verstappen e Fernando Alonso, Lewis Hamilton solo quarto però ha fatto il suo miglior tempo con la gomma più dura, la gomma media, poi Ricciardo Bottas, Gasly Vettel, Norris Perez, Raikkonen Sainz, Zunoda Stroll, Verlein in quindicesima o con Giovinazzi, Russell in diciottesima, poi Schumacher Mazepin, Hulkenberg, Antonio Felix da Costa, Vern e Danilk Viata a chiudere per la Manor Racing Team. Continuiamo e andiamo al sabato di qualifiche che è sotto la pioggia. Abbiamo migliorato nuovamente a quanto pari il setup di Verlein sempre al 97%, difficile, difficile migliorarlo. Tenderei quasi quasi a scaricare, a provare a scaricare nuovamente perché ho come la sensazione che piano piano stavamo andando a caricarlo leggermente troppo. Eccoci direi di tentare così, vediamo se migliorerà almeno di un punto percentuale. Con entrambi i piloti gomme intermedie, continuiamo, prendiamo parte al Q1. Diamo subito un'occhiata al meteo, dobbiamo subito scendere in pista perché ci sarà un momento di calma e potrebbe essere il momento ideale. Scegliamo quindi le gomme da asciutto, le super morbide, perché può essere fondamentale quel momento di calma in cui la pista, perché la pista si sta asciugando per fare il nostro giro. Sembrerebbe una finestra molto molto piccola per poter effettuare il giro, poi non si sa, magari riaumenterà, ridiminuerà la pioggia alla fine del Q1, però dobbiamo tentare il nostro giro e lo facciamo sulle gomme super morbide, sulle gomme da asciutto. Finiamo il giro, siamo in prima e seconda ma siamo stati i primi a effettuare il nostro giro, ma anche altri hanno fatto il loro giro con la gomma super morbida. Per ora siamo davanti a... e no, non siamo davanti... mi pareva che fossimo in alto, invece no, stiamo perdendo posizioni. Due minuti e mezzo, facciamo scendere in pista George Russell. E a due minuti faremo scendere in pista Pascal Verlein. Ora abbiamo migliorato al 98% il setup con quel ritocco prima della qualifica, tre eccellenti anche per lui, quindi ottima situazione anche per Pascal Verlein. Montiamo un nuovo set di gomme super morbide, lo facciamo scendere in pista con le migliori condizioni possibili. Più 1,8 nel secondo settore. Vediamo quanto si migliora George Russell. Sale purtroppo solo in quindicesima e secondo me non è un buon tempo perché comunque dietro Verlein, che si è migliorato nel primo settore, ma non nel secondo. Sta andando a chiudere il suo giro Pascal Verlein e non migliora. Chiude in quattordicesima. Purtroppo dietro si stanno migliorando Giovinazzi, Schumacher, Mazepin e Da Costa. Speriamo non troppo. Schumacher si migliora ma... e anche Giovinazzi ma è dietro di noi. Fortunatamente dietro Russell e quindi entrambe le vetture nel Q2. Bene così. Passiamo con il quattordicesimo tempo e il quindicesimo tempo per Verlein davanti a Russell. Eliminati Mick Schumacher, Esteban Ocon, Antonio Felix da Costa, Nico Hülkenberg, Nikita Mazepin, Jean-Erik Vergne e Daniel Kvyat. Continuiamo, scendiamo in pista per il nostro Q2. Andiamo a far migliorare un po' le condizioni della pista per far aumentare l'aderenza del circuito e il grip man mano che le vetture scendono in pista. Ora 8 minuti direi di scendere. Prima con George Russell per effettuare il nostro primo giro del Q2 e prendere un po' le misure. Tra pochissimo scendiamo in pista con Verlein. Eccoci pronti a scendere in pista anche con Pascal Verlein. Buono e perfetto con George Russell. Buone le temperature e quindi stiamo trovando il giusto compromesso durante queste qualifiche per l'ottimizzazione dell'effetto scia. Surriscaldamento è perfetto, invece con Pascal Verlein aveva surriscaldato tanto i freni. Andiamo a seguire George Russell per il suo primo giro cronometrato del Q2. È a 3,2 secondi da Lewis Hamilton, un tempo molto alto, mentre Verlein si mette davanti ad Antonio Giovinazzi. Quindicesimo e diciassettesimo. aspetteremo proprio all'ultimo per effettuare il giro. Due minuti, due minuti e facciamo scendere in pista Pascal Verlein. Poi faremo scendere subito in pista anche George Russell. Perfetto, perfetto con Pascal Verlein. Abbiamo messo l'ultima fase in automatico. Surriscaldamento è perfetto invece con George Russell, ma abbiamo buone condizioni per effettuare il nostro giro. Andiamo da Verlein, vediamo se riuscirà a migliorare la sua posizione, ma sarà molto molto difficile cercare di scalzare Lance Stroll. Verlein comunque sta migliorando nel primo settore, migliora nel secondo settore a 2,2, comunque rimane in quindicesima, mentre Russell si avvicina a Giovinazzi a meno di due decimi, però rimane in diciassettesima, quindi chiudiamo qui le nostre qualifiche con la quindicesima piazza per Pascal Verlein, che comunque si è avvicinato tanto all'Aston Martin e diciassettesimo George Russell, a ben sette decimi però dal compagno di squadra. Eliminati Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Sergio Perez. Pensate, a 26 millesimi da Carlos Sainz Tsunoda a 42, Kimi Raikkonen a 59, Sergio Perez. Gli eliminati poi in quattordicesima Lance Stroll, in quindicesima Pascal Verlein, in sedicesima Antonio Giovinazzi, in diciassettesima George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc. I primi tre, ma andiamo a simulare il Q3 per vedere chi si prenderà la pole position. Qualifiche terminate, Lewis Hamilton in pole position davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc in terza, vicinissimo al pilota della Red Bull, quindi confermato il Q2, la classifica del Q2. Poi Bottas, Ricciardo, i primi cinque, ma ora andremo a dare un'occhiata molto velocemente alla griglia di partenza di domenica per il Gran Premio d'Italia. Eccoci, Lewis Hamilton si prende la pole, al suo fianco partirà Max Verstappen in seconda fila Leclerc, Bottas, poi Ricciardo Alonso, Gasly Vettel, Norris Sainz, Tsunoda Raikkonen, Perez Stroll, Verlein Giovinazzi, Russell Schumacher, Ocon da Costa, Hülkenberg Mazepin e infine Verne e Kvyat. Ma subito ci tuffiamo nella nostra domenica, la gara. Milano, sotto il sole, splendente. Scelta delle gomme, le gomme super morbide durano dai 17 ai 19 giri per Russell, mentre le gomme morbide dai 38 ai 40. Penso che anche Russell possa pensare di fare una gara partendo sulle gomme morbide e poi probabilmente montando un set di gomme super morbide. Vedremo, lo facciamo comunque partire con le gomme morbide, mentre per quanto riguarda Pascal, che ha un consumo gomme molto migliore, 26-28 giri partirà con le super morbide e probabilmente lui potrebbe riuscire anche a gestirle per fare un solo pit stop e rimontare super morbide. Vedremo cosa riuscirà a fare, ma sicuramente con lui selezioniamo le gomme super morbide anche per la gara. Si accendono le luci. 4, 5. Parte il Gran Premio d'Italia GP di Milano, partito male. Verne passato da Giovinazzi, parte fortissimo Russell che trova una gran via per guadagnare posizione. Salini in 14esima, mentre Verne è sceso in 18esima con le gomme più morbide, addirittura Russell sale in 12esima e fa il primo settore record con una partenza straordinaria. Grandissima partenza di George Russell, che lì in lotta addirittura con la Ferrari di Leclerc che ha avuto un inizio shock, un inizio shock per Leclerc che partiva in terza piazza. Verne sta provando a recuperare posizioni su Stroll, purtroppo una brutta partenza con la gomma più morbida, mentre Russell si sta facendo vedere dalle due Ferrari che sono in decima e undicesima. Grandissima partenza di George. Sta iniziando il quarto giro per George Russell, dobbiamo abbassare il stile di guida per non far sorriscaldare troppo le gomme. Possiamo continuare ancora per un po' con la modalità motore alta, visto che grazie al nuovo motore il consumo non è così elevato. Ancora migliore quello di Pascal Verlein che è in quindicesima posizione, sta provando a recuperare su coloro davanti a lui, mentre Russell è l'unico a essere partito con gomma morbida. E per ora buona gara perché in dodicesima piazza sta cercando di infastidire Perez e Vettel, anche se dietro Norris con gomma super morbida gli sta dando fastidio. Ora prova l'attacco, ce la fa, ma non siamo in lotta con lui. Andiamo in modalità motore media, ma dobbiamo anche impostare uno stile di guida in risparmio perché sta comunque sorriscaldando le gomme George Russell. Proviamo a gestire un po' di più il carburante. Ora dietro Russell c'è Ocon con gomma media, che sicuramente è un passo migliore grazie a una vettura migliore, mentre Verlein è già in un mondo tutto suo perché ha perso contatto da Ocon, ma ha anche guadagnato qualcosina su un Raikkonen che quest'oggi è un po' in difficoltà con gomma media. Verlein sta dando fastidio a Russell, ora prova l'attacco, direi di non dare ordini ma far gestire Russell per far passare Pascal Verlein che con quella strategia, con la gomma più morbida, sicuramente in una condizione di vantaggio, ora va all'attacco. C'è stato c'è il contatto, c'è stato il contatto tra i due. Per fortuna nessun provvedimento preso e non si sono rovinati la gara a vicenda. Fortunatamente però sta sorriscaldando tanto le gomme e il nostro George Russell e anche Pascal comunque sta cercando di gestire la temperatura ma ha una temperatura molto alta. Quattordicesimo Verlein al momento, quindicesimo George Russell, lasciamo gestire la temperatura in risparmio totale a George Russell. Purtroppo sta arrivando però da dietro Kimi Raikkonen, è una gomma che sorriscalda molto facilmente. Verlein intanto invece sta gestendo la gomma ma sta andando all'attacco di Ocon, sta cercando di passare il pilota dell'Alpine per ora e la gomma comunque la sta gestendo alla grande. Siamo al nono giro, purtroppo Verlein ha perso ora contatto d'Ocon, leggermente però sta arrivando da dietro Kimi Raikkonen, pericolosissimo, temperatura delle gomme è troppo elevata per Pascal Verlein, deve assolutamente gestirla, questo è il suo problema al momento. Mentre Russell era partito fortissimo e invece ha perso ora, ha perso tanto passo, la temperatura delle gomme sta tornando normale. Possiamo aumentare anche la modalità del motore, così come lo stile di guida per cercare di aumentare il nostro passo con il pilota britannico, mentre Verlein ha perso la posizione su Kimi Raikkonen purtroppo. È sceso in quindicesimo, ora Raikkonen sta cominciando a fare la differenza con quelle gomme medie. Inizia ora il dodicesimo giro per Pascal Verlein che ha uno svantaggio di più di un secondo ormai su Kimi Raikkonen, ma un vantaggio anche di due secondi e mezzo sul compagno di squadra che comunque sta tenendo bene il passo con una gomma più dura. Per ora siamo in una situazione di stanca di questa gara. Possiamo aumentare lo stile di guida per Russell per qualche giro con il carburante che è tenuto bene sotto controllo da entrambi i piloti, quindi siamo in una situazione di stanca andando verso il periodo dei pit stop cui manca all'incirca ancora però 10 giri, quindi dovremmo aspettare ancora qualcosina. Verlein sta mettendo sotto pressione, ha riaumentato il suo passo alla grande, sta mettendo ora sotto pressione Raikkonen che a sua volta mette sotto pressione Ocon, quindi tornata nuova vita la vettura del nostro pilota tedesco. Purtroppo non possiamo gestire la sua modalità per cercare di fargli passare i due piloti davanti a lui e cercare di fare il vuoto. Gomma comunque ancora al 52% per Verlein. Credo che sia in grado tranquillamente di effettuare una gara su una sola sosta e montare un altro treno di grume super morbide. Potrebbe tranquillamente riuscirci il nostro pilota tedesco. Vedremo se sarà in grado comunque di gestire bene la gomma fino a quel momento. Con Giorgi invece temperatura sempre sotto controllo, possiamo riabbassare a risparmio ora, però dobbiamo abbassare anche la modalità del motore perché siamo a meno 0-28. Ha perso un po' di passo ma è ancora a due secondi dal compagno di squadra, mentre davanti ora si ferma Leclerc per montare un treno di gomme morbide ma col pistop anneso con riparazione, quindi è addirittura dietro Russell, non ci metterà granché e anche dietro Giovinazzi. Sicuramente non ci metterà granché a raggiungerci, però un pistop molto molto presto per il pilota della Ferrari che era partito in terza, sperava sicuramente di fare un gran primo di casa un po' migliore, invece per ora si sta trasformando in un incubo. Leclerc in qualche giro è arrivato da dietro con un passo incredibile, è passato tutti, anche Norris ha montato un treno di gomme morbide nuove, ha ripassato Russell, ora sta andando a prendere Verlein che sta mettendo sotto pressione Ocon, mentre Raikkonen una volta passato Ocon se n'è letteralmente andato, letteralmente andato Kimi Raikkonen ha già tre secondi di vantaggio su Ocon, quindi credo che Raikkonen sarà molto molto tranquillo perché il suo passo è nettamente migliore rispetto a quello dei nostri piloti. Verlein finalmente passa Ocon che però prova a ripassare, lo sta mettendo sotto grande pressione, Pascal Verlein con una modalità del motore alta al momento, vediamo se riesce a tirare la staccata, ce la fa, ce la fa, Pascal Verlein passa Ocon, importantissimo questo sorpasso, speriamo possa mantenere la posizione, con Pascal appunto ad arrivare all'incirca al ventisettesimo, ventottesimo giro per montare un altro, se riusciamo a gestire la gomma, per montare un altro treno di gomme super morbide, speriamo di riuscire a farlo perché sarebbe veramente importante riuscire a portare avanti una strategia del genere per contrastare le macchine più veloci con una gomma più performante Ocon già distanziato da parte di Verlein, sta dimostrando Verlein con questa gomma comunque di averne di più di Ocon al momento. Con Russell invece, Russell continua a tenere abbastanza il passo del compagno di squadra a quattro secondi, mentre si ferma Ricciardo dalla quarta piazza con un pitstop riparazione, anche Gasly però senza riparazioni, e dicevo Russell a quattro secondi da Verlein, dal compagno di squadra, con una gomma più dura, quindi comunque una buona gara per ora e speriamo che riesca anche a riunirsi a Ocon perché è lì davanti a poco Ocon, a tre secondi dal nostro pilota britannico, non sarebbe male riuscire a mettersi dietro anche un pilota dell'Alpine. Verlein sta spingendo in questo momento in dodicesima piazza, comunque a tre secondi da Raikkonen, non è niente male, però ora perde la posizione su Ricciardo che recupera da dietro e sta arrivando anche Bottas, quindi scenderemo tranquillamente in quattordicesima piazza, addirittura prova a lottare Verlein, non serve al momento, però sta consumando tanto le gomme, sta consumando tanto le gomme, probabilmente non riusciamo ad arrivare al ventisettesimo giro, perché gomma al 27%, i tempi sono buoni, i tempi sono buoni per Verlein, quindi probabilmente possiamo portarla avanti ancora qualche giro, però forse un rischio, forse sarebbe un rischio portarla fino al ventisettesimo, vediamo, vediamo, perché se dobbiamo fermarci al venticinquesimo, al prossimo giro, probabilmente andremo a montare un treno di gomme morbide e tralasceremo l'idea della nostra strategia su due treni di gomme super morbide. Vediamo nei prossimi due, tre giri. Inizia ora il venticinquesimo giro per Verlein, gomma al 14%, pit stop per lui, pit stop per lui e montiamo un treno di gomme morbide, perché non possiamo a una gomma davvero troppo troppo usurata ora. Tentiamo il pit stop veloce con Pascal Verlein, si ferma. Un buon stint, un buono stint, comunque 25 giri per Pascal Verlein, però rischiamo troppo, rischiamo troppo a cercare di portare quella gomma fino al ventisettesimo barra ventottesimo giro per montarne un'altra. Andiamo più sul sicuro, potrà spingere sicuramente di più con quella gomma ora Pascal Verlein. Con Russell invece gomma ancora benissimo al 45%, stiamo cominciando a spingere un po' di più, ora riandiamo in sostegno e poi probabilmente possiamo aumentare la modalità del motore, perché è stato doppiato George Russell e poi spingeremo, molto presto spingeremo con Russell. L'obiettivo è arrivare al 35esimo giro e montare un treno di, almeno al 35esimo giro e montare un treno di gomme morbide, di gomme super morbide per concludere la gara. Verlein sta arrivando, ora è un rischio perché rischiamo di far passare anche Stroll, però la rischiamo. Ritiro per Mick Schumacher, ora possiamo subito riaumentare per cercare di difenderci da Stroll. Potrebbe fare un buon blocco anche Russell su Stroll per far scappare via Verlein, mentre si ferma Norris con pit stop annesso, riparazione, neanche bandiera gialla per il ritiro di Schumacher. Eccolo Mick Schumacher, lo passa ora George Russell, lo passa anche Stroll che sta provando a mettere sotto pressione il nostro pilota britannico. Sta attuando un buon blocco per favorire Verlein, Verlein che ha effettuato il pit stop e ha recuperato su Russell, sperando che comunque Russell con la gomma super morbida poi riesca a rimontare nuovamente. Verlein ora col pit stop effettuato, va a passare Ocon che ancora con la gomma media prova a difendersi, poi passa però Verlein gomma troppo nuova, benissimo perché in tredicesima posizione abbiamo davanti a 5 secondi Tsunoda che ha effettuato il pit stop e stiamo guadagnando tanto su Raikkonen che ancora non ha effettuato il suo pit stop, quindi possiamo sperare forse con Verlein anche di metterci davanti Raikkonen se la sua strategia è quella di fermarsi molto in là oppure se addirittura ha intenzione di finire la gara con le medie però stiamo guadagnando benissimo sul pilota finlandese dell'Alfa. La strategia sembra buona, la strategia sembra buona per ora con Pascal Verlein, con Russell è risalito in dicesima, sta cercando di mantenere sempre quella distanza suo con, per ora tiene benissimo dietro Stroll, penso che possa arrivare anche al trentaseiesimo trentasettesimo giro gestendo la gomma in questo modo per poi montare appunto un treno di gomme super morbide. Vedremo nei prossimi giri, rivalutiamo, è tutto da rivalutare. Russell, gomme consumate, passato ora da Stroll, ma presto, ora direi tra pochissimo cominceremo a spingere, cominciamo ad aumentare un neutrale e al trentaquattresimo giro sta per iniziare il trentacinquesimo Russell, quindi siamo in target per montare poi un treno di gomme super morbide. Ora è il momento di spingere perché Stroll dovrà far passare i piloti più veloci, proviamo a spingere per cercare di recuperare, con Pascal che invece è in tredicesime e ha ripreso Tsunoda che ha problemi alla vettura e sta provando a metterlo sotto pressione. Niente male la gara di Verlein per ora, niente male, grande gestione della gomma super morbida, peccato per la brutta partenza, altrimenti probabilmente sarebbe anche più in alto, mentre Raikkonen al momento ha 18 secondi di vantaggio, quindi forse non sta guadagnando quello che speravamo nei confronti del finlandese, il nostro pilota tedesco, però davanti ci sono Perez e Raikkonen con gomma media che ancora non hanno effettuato il loro pit stop, vedremo, sarà difficile comunque anche una volta effettuato il pit stop a mantenerli dietro. Russell si lamenta, sta iniziando in questo momento il trentasettesimo giro, siamo al trentottesimo di gara, ne mancano 15, vediamo quanto durano le super morbide dai 17 ai 19, siamo già in finestra con Russell, però solitamente durano anche meno rispetto a quello descritto, sta provando l'attacco, direi con Russell di effettuare questo giro più un altro, ecco ora a fine di questo giro montiamo le gomme super morbide con George, sta spingendo tanto sia sulle gomme che sul carburante, mentre Verlein si lamenta sta provando a passare su un oda e ora lo passa, sale in dodicesima Pascal Verlein, con una gomma al 73%, si ferma Bottas con annessa riparazione, per lui secondo pit stop, secondo pit stop per Walteri Bottas, mentre Russell sta rientrando dietro Norris che sta provando a superare entrambi i piloti, undercut su Lance Stroll, speriamo non ci siano problemi al pit, George Russell scende al momento in diciassettesima, nessun problema fortunatamente, scende in diciottesima, passato anche da Giovinazzi, ma ora potrà spingere su questa gomma, tranquillamente fino alla fine, George Russell ha raggiunto Antonio Giovinazzi, stava cercando di passarlo e ora è il momento di spingere perché si è fatto doppiare, George purtroppo ne ha un altro di doppiaggio dietro, ora Giovinazzi ha fatto passare, se non sbaglio Lewis Hamilton o Valtteri Bottas, Russell si fa doppiare dalle Clerc, grande rimonta per lui dopo i problemi d'inizio gara e ora va a prendere la scia addirittura di Charles Clerc, lo mette sotto pressione e passiamo, passiamo anche Giovinazzi, molto bravo Russell a sfruttare il doppiaggio per mettersi dietro Giovinazzi e risalire in diciassettesima piazza, non ha un grandissimo posizionamento, dobbiamo andare addirittura in sostegno per far abbassare la temperatura delle gomme, Verlein sempre in dodicesima piazza ha effettuato il pitstop Raikkonen purtroppo è davanti al nostro pilota tedesco quindi non possiamo far nulla contro il pilota dell'Alfa, Perez ha montato gomma super morbida mentre Raikkonen da media poteva montare super morbida e invece ha montato la morbida, Sunoda pitstop con annessa riparazione Ocon pitstop quindi Russell probabilmente ripassa entrambi no Russell rientra subito dietro Ocon purtroppo subito lì vicino, lì vicino c'è un doppiaggio o nel momento di sfruttare come prima provare a sfruttare il doppiaggio di quelli che sono davanti che però hanno gomme più nuove, sono in lotta comunque con Sunoda Mancano tre giri alla fine, è il momento di far attaccare al massimo George Russell visto che ha gomma da vendere mentre Verlein si sta per far doppiare da Hamilton proprio a tre giri dal termine, direi che queste sono le posizioni in cui finiremo molto molto probabilmente Ritiro per Jean-Éric Vergne proprio nel momento in cui Verlein è nell'ultima chicane prima dell'arrivo, taglia il traguardo, Pascal Verlein chiude in tredicesima piazza mentre George Russell sta arrivando nel rettilino principale, scusate stavo seguendo ancora Verlein eccoci nel rettilino principale, chiude in sedicesima George Russell naturalmente non contento del suo risultato, era partito molto bene, pensavo che potesse recuperare più facilmente posizioni è arrivato a tre secondi d'Ocon, sarebbe servita come il pane a lui in una quindicesima piazza avrebbe cambiato il gusto di questa gara, è sicuramente perso meno morale però è terminata così, tredicesimi con Verlein, sedicesimi con Russell, la macchina migliora, su quello non ci piove però ci manca ancora qualcosa per poter competere per i punti, soprattutto quando le gare vanno così lisce senza alcun tipo di problema Ed eccoci alla graduatoria finale, vince Lewis Hamilton con annesso giro veloce davanti a Max Verstappen, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Walter Ibotta Sergio Perez, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen che si prende un altro punto con l'Alfa Romeo c'è stata una squalifica perché Verlein è dodicesimo, vediamo in fondo Pierre Gasly squalificato dalla gara per aver infranto le regole quindi purtroppo un altro punto per l'Alfa Romeo, ciò c'è lontano ulteriormente dalla dalla zona punti per la nostra squadra, Lando Norris in undicesimo, Verlein, Stroll, Ocon, Russell uno da giovinazzi, Mazepin Hulkenberg, Felix da Costa, Kvyat, Verni, Mick Schumacher e Pierre Gasly quindi Verni e Schumacher per ritiro per problemi meccanici e Pierre Gasly che chiude per in ventiquattresima in ultima per aver infranto le regole della FIA Lewis Hamilton in testa al mondiale con 180 punti, 80 punti di vantaggio su un Fernando Alonso magistrale in seconda piazza con l'Alpine, terzo Max Verstappen, poi Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo Sergio Perez, Leclerc, Vettel, Gasly, Norris, Sainz, Raikkonen con sei punti in dodicesima piazza noi siamo ancora in sedicesima con Russell con un punto e Pascal Verlein purtroppo ancora fermo a zero e direi che non lo merita di essere ancora fermo a zero classifica costruttori, rimaniamo in nuova piazza con un punto, purtroppo l'Alfa Romeo allunga ancora e va più 5 su di noi, si allontana quell'obiettivo ottavo posto, anche se per ora stiamo centrando il nostro obiettivo originario che era il nono posto, quindi comunque non ci saranno punti dolenti per la nostra squadra mantenendo questa posizione. Alla fine top 15 la raggiungiamo con George Russell grazie alla squalifica di Gasly, quindi aumenta il morale del pilota britannico, così come mente il morale al 100% di Pascal Verlein, un top 15 anche per lui come caratteristica acquisita però una gara decisamente migliore rispetto al pilota britannico. James Matthews ancora una volta contento perché come scuderia abbiamo raggiunto l'ottavo posto, mentre il previsto è il nono 2.864.000 euro, gli introiti per questa gara saliamo a quasi 5 milioni di euro ed eccoci alla dashboard, prossima gara tra 10 giorni, dovremmo avere un alettone anteriore eccolo, in consegna tra 10 giorni, chissà, ancora non so se arriverà in tempo meccanici epistop, andiamo ad assumere, a vedere se abbiamo dei candidati validi, un buon candidato Parker per le gomme perché più che altro perché ha un 99 in energia e un 16 in gomme, direi di assumerlo, un valido rimpiazzo perché varrà un 17 poi, mentre gli altri due bassi in energia, non grandi statistiche, quindi li rifiutiamo entrambi. Andiamo a rivedere la nostra squadra, togliamo i meccanici stanchi e ora daremo un'occhiata a tutti i valori. Abbiamo rivisto la nostra squadra meccanici per la prossima gara, abbiamo anche eliminato qualche elemento con energia troppo bassa, licenziato per diminuire sempre le spese della scuderia, possiamo tornare alla posta, abbiamo sicuramente i messaggi del fine settimana e un'intervista con Match TV. Oggi George Russell l'ha tamponato Pascal Verlein che ci ha detto a Russell non dovrebbe essere consentito gareggiare, visto ciò che è successo oggi. Che idiota! Che cosa ne pensi? Beh ragazzi, purtroppo sappiamo che George viene da un periodo non troppo facile, sta migliorando pian piano, nelle ultime settimane sicuramente i miglioramenti si sono visti ma vedere sempre il proprio compagno di squadra che va più veloce, che è costantemente avanti, può creare certi problemi. Nella foga di volerlo passare, di dimostrare di essere comunque il migliore dei due, di essere in miglioramento, probabilmente il britannico ha avuto un po' troppa foga, sicuramente, però sono cose che succedono. Sicuramente parlerò con entrambi, dirò a entrambi di stare più attenti perché non possiamo permetterci di rovinare la nostra gara dentro le nostre mura. Tra di noi non è una cosa assolutamente, non sarebbe una cosa accettabile, siamo stati fortunati stavolta che le vetture non si sono rovinate in questo piccolo scontro, però sono cose che succedono, quindi non sarà un gran problema, ne parleremo e tornerà tutto come prima. Revisione meccanica ai pitstop, buoni i due pitstop effettuati in questa gara, continuiamo, proseguiamo verso la riparazione dell'auto, ci avvisa Jonathan Eddles, quindi possiamo andare nella schermata della monoposto, elementi cruciali per questa gara, velocità massima, quindi motore, alettone anteriore, alettone posteriore, quindi miglioriamo i componenti sopraccitati, i due motori sono in fase di miglioramento, l'alettone anteriore è in fase di miglioramento anche se ne arriverà prestissimo un altro, dobbiamo migliorare gli alettoni posteriori, però non abbiamo miglioramenti da effettuare, quindi possiamo migliorare ancora i freni che stiamo utilizzando per queste gare. Per quanto riguarda l'affidabilità direi di continuiamo a migliorare sicuramente il motore, il nuovo motore high-end performance, poi direi di migliorare questo alettone anteriore, anche se già al 100%, probabilmente ha qualche decimale da dover migliorare, e migliorare i freni performance, i nuovi freni performance che abbiamo acquisito prima della scorsa gara. Aggiornamento obiettivo campionato costruttori, contento naturalmente, James Matthews, reso conto sulla prossima gara a Mar Nero e poi simulatore, Paddy Lowe. Abbiamo un buon simulatore al QG, ma se vogliamo stare al passo con le scudere migliori dovremmo potenziarlo al momento, come sapete non abbiamo denaro da investire nel nostro quartier generale perché dobbiamo investire il denaro sulla vettura per cercare di migliorare le nostre prestazioni. E siamo al GP del Mar Nero e l'alettone anteriore. Fortunatamente è arrivato, però ha un'affidabilità piuttosto, piuttosto bassa, quindi è un rischio, sarebbe un rischio. Vediamo, proviamo a vedere i componenti, selezioniamo l'alettone anteriore. E comunque un'alettone non troppo più performante, potenzialmente non è comunque neanche migliore rispetto al primo alettone, quindi ed è 3.29 al momento, però è un rischio, sarebbe un rischio. Vorrei rischiare, vorrei comunque rischiare e assegnarlo a George Russell. Andiamo a migliorare i componenti, vediamo, manca qualcosa, manca qualche ora, quindi probabilmente possiamo anche migliorarli, riuscire a migliorarlo. Magari saliamo un 50%, non ne idea, però la rischiamo, lo vedremo proprio durante la gara, prima della gara al montaggio componenti, quale sarà il livello di affidabilità, poi decideremo se montarlo effettivamente. Per ora ci proviamo e abbiamo un nuovo pezzo da costruire. Prossima gara tra 21 giorni a Singapore con cambio, freno e motore, utile però, quindi tra cambio e freno. I freni li abbiamo già sviluppati, andiamo a vedere i componenti. Cambio ne abbiamo sviluppato solo uno durante la stagione, direi di svilupparne un altro. Progettiamo un nuovo componente, andiamo sul cambio e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori in 21 giorni. Drivers overtaking più uno, reliability meno 10%, fuel efficiency più 5%, reliability più 20%, performance più 25%, gli elementi buoni non richiedono tempo di costruzione. La prestazione non sarà così elevata in questo pezzo, però migliorerà leggermente le prestazioni dell'altra vettura, della seconda vettura. Direi che va bene, un milione e 950 mila euro, 19 giorni dopo la gara, è un buon miglioramento per la nostra vettura. Se vogliamo un pezzo prima del GP del Marne, del GP di Singapore, altrimenti dovremmo spostarci a Yokohama e pensare a un nuovo motore o a una nuova ala posteriore. Però questo cambio potrà esserci utile anche nel GP di Yokohama. Proveremo a sviluppare un motore o un alettone posteriore prima del GP di Yokohama in 14 giorni. Non sarà facile, ma ci proveremo. Cerchiamo piccoli aggiornamenti per migliorare ad ogni gara. Quindi costruiamo il componente, confermiamo 1.814.000 euro per la progettazione di questo nuovo componente. Abbiamo terminato qui. Torniamo alla home. Prossimo episodio, GP del Marnero. Nono round della stagione di Formula 1 per la Williams. È stato questo un gran premio nella media per noi, perché siamo ancora lì, ci manca ancora qualcosa per entrare in zona punti, soprattutto in gare che filano lisce. Comunque, soprattutto Pascal Verlein, stiamo dimostrando che pian piano stiamo crescendo. Alla Saddamson sta piantando i semi per poter raccogliere soprattutto nella prossima stagione. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Vi chiedo come sempre di lasciare un like e di commentare qui sotto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Detto questo, io ancora una volta vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento al GP del Marnero, nono round della stagione di Formula 1 e vi saluto. Ciao ragazzi!